non vorrei che mi scornano se usciamo vivi da qua siamo al posto anzi se non mi portano via oggi siamo al posto ah e in V? no no in Italia eh? spieghi qui eh yes sono e so che spettacolo di posto ragazzi guardate eccoci qua ragazzi e oggi ragazzi ci svegliamo da qua di là c'è la Sicilia ancora e niente speriamo che vada tutto bene ancora stanno uscendo notizie che vogliono chiudere anche i confini tra regioni quindi siamo a rischio domani andiamo oggi sarò in campagna a Napoli mi fermerò siamo un po' al pelo del uovo speriamo che non blochino niente se no resteremo bloccati a dopo e rieccoci ragazzi stiamo partendo alla volta di Napoli farò tutta la Salerno Reggio Calabria quindi non starò lì a farvi vedere il tutto non ho neanche installato l'action council casco così almeno non si spiaccicano gli insetti e niente ci vediamo quando usciamo dalla Salerno Reggio Calabria per farvi vedere un po' la costiera amalfitana speriamo che tutto vada bene anche oggi a dopo usciti dalla Salerno Reggio Calabria ora mi sono fermato per montare la Action Cana e vi ricordo che la Salerno Reggio Calabria non si paga è gratis da Reggio Calabria Salerno autostrada gratis sono quasi 500 km di autostrada anche più quasi 500 km di autostrada gratuita gratuita eh si parte bene ragazzi finalmente dovrebbe esserci strada libera a Grazie a tutti. 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 Dante. Grazie a tutti.